Il 14 ottobre è il termine ultimo per concludere la fusione della Camera di Commercio di Teramo e l'Aquila e dare vita, quindi alla Camera di Commercio del Gran Sasso. Il limite temporale è fissato dal decreto legge agosto varato dal governo, come ricorda l'assessore alle attività produttive della regione Abruzzo, Mauro Febbo, il quale parla di un inutile e costoso contenzioso che ha generato solo un grave ritardo al processo di organizzazione del nuovo sistema camerale delle due province. La Camera di Commercio Teramana, dice ancora l'assessore, ha bloccato il processo in corso, revocando l'adesione alla nuova Camera di Commercio del Gran Sasso, successivamente presentando un ricorso al TAR contro l'atto di fusione della regione. Nel mentre anche la sentenza della Corte Costituzionale ha espresso parere legittimo sull'intero impianto della riforma, che ha previsto il taglio delle Camere italiane da 105 a 60. Oggi, rimarca Febbo, ad accelerare la riorganizzazione delle Camere di Commercio, ci ha pensato il decreto legge agosto, che attraverso l'articolo numero 61 ha imposto alle Camere di chiudere la pratica a metà ottobre, pena la decadenza degli organi di gestione e la nomina da parte del Mise, sentita la regione, di un commissario straordinario. Pertanto, dice l'esponente della Giunta regionale, ci aspettiamo dai due enti camerali gli atti di indirizzo per la formazione del nuovo Consiglio Camerale attraverso l'individuazione del numero dei seggi spettanti a ciascuno dei settori economici rappresentati per la nascita della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia. Come sottolineato in più occasioni, conclude l'assessore, il processo di fusione tra le due Camere, come peraltro già avvenuto tra quelle di Chieti e Pescara, rappresenta il rafforzamento del sistema camerale all'interno del processo economico istituzionale con numeri e posizioni che non possono essere ignorati.